Buongiorno a tutti, in questa quinta ecopillola vorrei esaminare insieme a voi la recente proposta franco-tedesca sulla costituzione di un fondo europeo per la ripresa, anche perché avrete intuito che qui la partita non si gioca tanto a Roma, dove peraltro si continua a litigare, ma piuttosto a Bruxelles, sede della Commissione, e a Francoforte, sede della BCE. Ma incominciamo dalla proposta Merkel-Macron. In effetti i due leader, senza aspettare le proposte della Commissione europea sul recovery fund che arriveranno a breve, hanno elaborato una loro autonoma proposta. In estrema sintesi l'idea è quella che sia la Commissione stessa ad emettere dei bond con garanzia europea AAA per reperire sul mercato i fondi necessari per la prossima fase della ricostruzione. Ora proviamo ad applicare a questo progetto franco-tedesco un'analisi punti di forza, punti di debolezza. Punti di forza. Gli importi reperiti sui mercati non verranno poi concessi ai vari Stati sotto forma di prestito, ma sotto forma di sovvenzioni, di contributi a fondo perduto, che è esattamente ciò che chiedevano i paesi più indebitati come l'Italia. In secondo luogo, quest'ulteriore indebitamento graverà sul bilancio del europeo 2021-2027 e non andrà quindi a gravare sul debito pubblico dei diversi paesi richiedenti. Terzo punto da non trascurare, che queste risorse reperite con i bond della Commissione verranno poi girate ai vari paesi non sulla base di quote già predefinite, ma in relazione alle effettive necessità finanziarie dei vari paesi conseguenti ovviamente ai danni derivati dalla pandemia. Ultimo punto, queste risorse reperite sui mercati verranno gestiti a livello europeo e canalizzate paese per paese verso investimenti e riforme strutturali, che mi sembra un fatto importante. Punti di debolezza. Beh, 500 miliardi ancorché a fondo perduto sono probabilmente un po' pochi rispetto a quei 1.000-1.500 miliardi stimati come necessari per la seconda fase della ricostruzione. Ritengo che nella prossima proposta della Commissione europea ci sarà la necessità di prevedere almeno ulteriori 500 miliardi di prestito a lunga durata e a condizioni particolarmente favorevoli per i paesi che ne dovessero fare richiesta. Conclusioni. Sono sicuro che nonostante le perplessità dei popoli del Nord si arriverà a un buon accordo, anche perché sarà un accordo in modalità win-win, nel senso che vinceranno un po' tutti. Vincono i paesi più indebitati come Italia e Spagna, perché riceverebbero i contributi anche a fondo perduto, ma vincono anche paesi come Germania e Francia che hanno ribadito la loro leadership in quella che sarà l'Europa post-pandemica, ma ritengo che vincerà anche l'Olanda che deponendo le armi otterrà probabilmente che venga spento il faro sulle sue pratiche di attrazione fiscale che più o meno ci costano ogni anno una settantina di miliardi. Un grande abbraccio a tutti.